ciao a tutti benvenuti in questo nuovo tutorial oggi parleremo di team render in cinema 4d ho visto che su youtube c'è ci sono pochi video su questo argomento e non sono molto chiari adesso vi faccio cioè vi mostro io com'è che si fa a creare un server di team render per renderizzare le animazioni o anche le singole immagini su cinema 4d usando un vostro vecchio pc o mac e è molto semplice su internet è un po strano tutto scritto sembra un sembra una cosa che è molto difficile invece è molto semplice guardate allora andiamo sulle preferenze di cinema 4d e in renderizzatore team render si aprirà questa finestra questa spunta di team render deve essere abilitata qui ci sarà security token e una porta questa porta è molto importante perché l'avremo anche sul nostro pc o mac che funzionerà da server ok quindi una volta abbiamo abilitato questo possiamo chiudere andiamo in render macchine team render e apparirà questa questa finestrella io qui ho già due macchine abilitate la macchina locale che questa qui con la quale creo tutti i video e il mac brew book pro in aggiunta che è il mio mac che mi serve da server la macchina locale a 12 thread e 32 giga di ram l'altra invece a 8 thread e 16 giga di ram comunque sono due belle bestioline perché abilitare questa cosa qua perché se siete in possesso di una vecchia macchina di un vecchio mac computer potete aiutare la nuova macchina che usate per la vostra produzione 3d sfruttando il processore interno della vecchia macchina e aggiungendo 3d calcolo a il vostro render come si fa a arrivare ad avere queste due cosine verdi questa di certo ce l'avete accesa e sotto non avete altro basta andare su macchina aggiungi macchina e vi verrà chiesto il numero della porta dell'altro mac dov'è che la troverete nell'altro mac come su questo video aprite client andate comunque su preferenze trovere andate sempre nel renderizzatore team render e abilitate team render questa questa porta avrà un numero che un po diverso potrebbe essere 54 0 1 0 2 0 3 dovete mettere in aggiunta macchina questo numero e in automatico in un attimo vi apparirà questo mac pc aggiunti potete aggiungerne quanti ne avete voglia anzi forse adesso questo versione 21 forse c'è una limitazione di 5 nodi di render ma non ne sono certo perché io ovviamente non ho più di 5 mac e quindi c'è questa prova che non la posso fare allora importantissimo io come avete visto dal video sono collegato tramite la porta ethernet diretta al mio wifi perché ovviamente se i due computer fossero collegati direttamente su una rete c'è la comunicazione tra loro sarebbe ancora più veloce io non riesco a farla questa perché ho soltanto un adattatore di rete e quindi io c'è la mia macchina locale ce l'ho semplicemente collegata via wifi e lavorano benissimo lo stesso si può anche fare senza essere connessi direttamente al wireless di casa come ho fatto io ma lavorando con le macchine in wireless ovviamente la forza di calcolo sarà un pochino meno svelta la mia in questo momento è una via di mezzo ho fatto la prova sia soltanto wifi che un computer collegato direttamente all'ethernet e riesce ad andare un pochino più svelto sono convinto che se fossero collegate le due macchine in rete direttamente sarebbe ancora più svelto in un modo molto molto forte però non avendo due adattatori non riesco a fare questa cosa e c'è in realtà che non mi importa ecco una cosa importantissima per me per quanto riguarda team render è che viene in aiuto in un modo molto forte sulle animazioni perché se voi avete una animazione che dura 300 frame a 30 frame per secondo la animazione team render com'è che che la lavorerà lavorerà che 150 frame saranno fatti da una macchina e 150 frame saranno fatti dall'altra quindi vi dimezzerà il tempo non perché i processori lavorano in contemporanea ma perché ognuno si occupa soltanto di una parte di quella animazione e secondo me è una roba fighissima questa spero che questo tutorial vi sia piaciuto iscrivetevi al mio canale mettete un like e ci vediamo al prossimo video ciao